Mercoledì 13 gennaio, buongiorno da Vincenzo Murgolo. Apriamo con gli arresti per corruzione nel teatro Petruzzelli. C'è attesa per ciò che dirà in conferenza stampa il procuratore di Capo di Bari in merito ai cinque arresti eseguiti. Ieri sono finiti in manetta l'amministratore del teatro e altre tre persone. Nella notte a Roma è stata la volta di Franco Mele, responsabile Luci e Fonica. E ora le reazioni dei dipendenti del teatro barese nel servizio di Annarita Moruso. Si aggiunge ancora una volta una pagina nera alla storia di questo teatro. Si dovrebbe parlare di cultura e invece. Sono queste le parole a caldo di alcuni dei dipendenti del teatro Petruzzelli. E invece di respirare l'aria delle nozze di Figaro, opera che andrà in scena il 27 gennaio, si respira tristezza. L'aria oggi è pesante ma allo stesso tempo potrebbe costituire una rinascita, spiegano alcuni fiduciosi. Altri invece si lasciano prendere dalla rabbia. La cosa più brutta è che la gente prenda tutti questi soldi ma restano sempre impuniti. I domiciliari ne sono l'esempio. Hanno troppe conoscenze. Chiosa una consulente esterna. Alle tre e mezza il sovrintendente Biscardi ha indetto una riunione con il presidente della fondazione Carofiglio e tutti i dipendenti. Sanità. Il governatore Michele Emiliano parteciperà oggi alla riunione riguardante il patto della salute per il bienio 2014-2016, presieduto dal ministro Lorenzin. Il tema sarà al centro anche di una giornata di studio che si terrà domani a Barletta. Dopo i recenti casi di mala sanità si discute circa il funzionamento delle strutture ospedalieri italiane. Grazie a Naca Purso. Cinque donne in meno di 15 giorni hanno perso la vita in sala parto a seguito di complicazioni relative alla gravidanza o all'aborto. Da Torino a Foggia, passando per Napoli, si è acceso il dibattito sulla mala sanità e l'inefficienza da parte delle strutture ospedaliere e del personale sanitario. Ma l'Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che si tratta di eventi casuali e non anomali rispetto ai tassi medi di immortalità materna. I cittadini però non capiscono come sia possibile morire nel 2016 di parto. C'è chi dà la colpa alla negligenza del personale, chi invece alla carenza degli ospedali. Una cosa è certa. Così com'è da tutelare la nascita, deve essere tutelata la morte del concepito. Hanno riferito ai nostri microfoni. E Michele Emiliano ha parlato anche della questione delle trivellazioni a largo delle coste pugliesi. Commentando il decreto emanato dal governo lo scorso 22 dicembre, il presidente della Puglia ha dichiarato se il governo vuole trivellare in Puglia, lo deve dire. Noi faremo la nostra battaglia chiara e limpida. Passiamo alla cronaca. Arresti in serie compiuti dai carabinieri nel Foggiano. Arrori Garganico è finito in carcere un uomo con l'accusa di lesioni e porto abusivo di arma da fuoco. A mattinata le manette sono scattate per un uomo accusato di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione. Arresti domiciliari, infine, per un uomo di Manfredonia accusato di stalking. Cambiamo decisamente argomento. Bari si prepara ad ospitare il maestro della fotografia italiana, Mario Cresci, che sarà ospite di un incontro che avrà luogo venerdì prossimo nell'Aula Magna del Politecnico di Bari. L'evento è organizzato dal Museo della Fotografia e della Struttura Universitaria Barese, dall'Associazione Culturale Terranova e da F-Project Fiorito Fotofilm. Dopo gli attentati che hanno segnato la fine del 2015 e recenti fatti di Colonia, cresce la preoccupazione degli operatori del turismo di Bari. Tommaso Felicetti. La paura di attentati terroristici ha causato disdette di prenotazione di viaggi anche in Puglia. È quello che emerge dalle dichiarazioni di titolare di agenzie Viaggi di Bari. Le destinazioni più sensibili come Egitto, Turchia, Tunisia non vengono più vendute. Nel periodo natalizio alcuni clienti che avevano destinazione Bruxelles sono stati condizionati dall'allarme terrorismo in Belgio e hanno cambiato il loro viaggio su Berlino. Altre persone invece affrontano in maniera più serena i loro viaggi di relax. Il problema resta perché è una situazione difficile da gestire. Non si può creare una mappa perché la paura è ovunque, anche in località impensabili. Aggiungono dalle agenzie Viaggi ora impegnate a vendere mete italiane durante l'ormai vicina Pasqua. Ora lo sport. Il Bari è al lavoro per preparare la sfida di venerdì sul campo dello Spezia. La partita vedrà il debutto del nuovo tecnico biancorosso Andrea Camplone. Intanto tiene banco il calciomercato. Dopo il ritorno del centrocampista Joseph Minala si lavora per l'ingaggio del terzino brasiliano Guilherme. Viabilità, traffico regolare su strade e autostrade pugliesi. E chiudiamo con il meteo. Temperature ancora miti sulla nostra regione, ma nelle prossime ore potrebbe verificarsi un brusco calo della colonnina di Mercurio con l'insorgenza di malanni di stagione. I medici consigliano soprattutto ad anziani e bambini una dieta equilibrata e di evitare posti affollati. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento è per la prossima edizione.